cari amici e cari amiche di total photoshop bentornati io sono emiliano e sono tornato nuovamente a parlare di html css tutto quello che riguarda il mondo web in una delle ultime puntate abbiamo visto come integrare un video direttamente da youtube sul nostro sito abbiamo visto come appunto inserirlo tramite codice creato direttamente dal sito di youtube in questa nuova puntata andremo invece a vedere come inserire un video direttamente nel codice html ho affrontato questo argomento già in passato ma non abbiamo mai visto come metterlo in pratica quindi questo è il nostro video appunto che è il video che abbiamo integrato in una delle scorse puntate torniamo al nostro codice apro il mio file video.html e vado a commentare appunto tutto tutta questa parte che appunto è l'iframe che mi viene dato da youtube applichiamo il commento html prima di vedere appunto come inserire un video andiamo su questo sito caniuse.com questo sito ci darà una mano per capire il tipo di file video che possiamo e dobbiamo inserire nel nostro sito per essere visualizzato su più browser possibile nella vecchia puntata che trovate sotto la categoria dell'html 5 vi avevo detto che bisognava utilizzare tre tipologie di formato ovviamente è passato un po' di tempo e da tre tipi di formato siamo passati a due e tra poco adesso poi vi farò vedere vi spiegherò il perché andremo a utilizzare probabilmente solo un tipo di formato torniamo un attimo a caniuse.com questo sito ci permette di capire quali per esempio elementi css in html 5 e molte altre molte altre tipologie quali sono supportati da quali browser eccetera andiamo subito a fare a cercare per esempio video e già inserendo video nel motore di nel motore di cerca di questo sito vengono visualizzati per esempio video element a me quello che interessa è video format benissimo vedete che il primo formato che viene visualizzato è il webm webm viene supportato da firefox da chrome da opera da android browser parzialmente e da chrome for android e diciamo che già questo tipo di formato è ottimo e quindi probabilmente andremo a utilizzarlo passaggio successivo video formato ogg questo tipo di formato viene supportato anch'esso da firefox da chrome e da opera ma non da inter explorer da safari quindi per finire l mpeg 4 l mp4 viene supportato ormai da inter explorer e dalla versione 9 da firefox verrà supportato pienamente dalla versione 34 vi ricordo che attualmente siamo questa questa riga nera questo questo bordo nero indica appunto che tipologia di browser di browser è attualmente è sul mercato diciamo chrome come vediamo è supportato addirittura dalla versione l mpeg 4 utilizza dalla versione 31 safari supportato pienamente opera non viene ancora supportato ios safari viene supportato opera mini non ancora android e chrome for i due browser per appunto per android lo supportano a questo punto cosa cosa diciamo che l mpeg 4 sicuramente lo andremo ad utilizzare il video in formato mpeg 4 andremo ad utilizzare altro video formato che utilizzeremo è quello che viene supportato da opera quindi il web m quindi cosa dobbiamo fare andiamo a ad inserire a questo punto nel nostro file html video appunto html il appunto i nostri video e poi andremo a fare alcune prove sui vari browser prima di andare a mettere mano del codice però ovviamente dobbiamo convertire i video nei due formati per farlo possiamo farci dare una mano da questo convertore miro video converter che è un'applicazione gratuita esiste per le varie piattaforme mac windows e linux e ci permette in modo veloce intuitivo appunto di convertire i file nel formato che ci servono però direi che per oggi possiamo fermarci qui affronteremo il la conversione del video e l'integrazione della nostra pagina a html video.html nella prossima puntata vi invito se lo avete ancora fatto a iscrivervi alla nostra newsletter e ai nostri social network a me non rimane che salutarvi ciao da Emiliano